Piero Quadrumolo, Terre da Vino, cosa ti aspetti da Blogger Stari si incontrano? Diciamo semplicemente che i ristoratori cominciano a parlarsi, ad affrontare i problemi in modo più libero, senza tante maschere e questo magari può aiutare anche noi produttori di vino a scambiarsi delle problematiche vere nell'interesse del consumatore.